E devo mettere, aspettate ragazzi, c'è una canzone che vorrei mettere No 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 Questo è un altro Ma Dio caro Scusatemi Allora ragazzi Diamo la possibilità di entrare a qualcuno Non scrivete cose bannabili Vi prego Ok Anche quando Appena entra uno o due fan Starta tu Sei tu il beep Sì, starta tu Ok Vai, 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 starta, starta One audience member, bello Allora, praticamente Vabbè Ah, ok Praticamente noi dobbiamo dabbare e commentare la scena mancante Ci dobbiamo mutare, quindi? No, no Io devo farlo? Sì Tu devi scrivere, tipo Tu devi scrivere una frase E in inglese E l'intelligenza artificiale te la doppia Quindi ognuno di noi scriverà In italiano? No, no, in inglese fa più ridere Ve lo dico io Ragazzi, se non sapete l'inglese Vi chiedo scusa Potete abbandonare la live Però, secondo me Viene molto divertente Vi prego Scrivete cose anche borderline Ma non bannabili, per favore Ok, ok, ok Ok, ci prendiamo la mano Prendiamoci la mano No, è bellissimo che Ho vinto a mani basse, ve lo dico Vai, vai Ma mani bassissime Say, what happened to your face? Fidesse Yeah? Say, what happened to your face? Fucking blades Yeah? Say, what happened to your face? Someone slapped me like the Italian singer Someone slapped me like the Italian singer Time's running out Quack, quack, quack Quack Ah, grazie, Simo Quack 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 Wow No, di che era? Ma io ho usato il lap, ragazzi Sono 14 Ma hai già vinto Fabio Hai finito Hai vinto a mani basse Io ho perso No, ha vinto Simone Ha vinto Simone La mia Friggal egg, kid Here comes the next round Non ho capito, non ho sentito Che hai detto Perché non assumi più uomini Ok You're almost out of time Ah, a mente va sempre luce Eh sì Però è proprio figa sta cosa Veli a Why don't you hire more men Fucking feminist Why don't you hire more men Maloney doesn't change immigration laws Why don't you hire more men Perché vuol dire che non l'hai messa I'm gonna fart Why don't you hire more men Because men don't get pregnant like the bitches Boom Why don't you hire more men Because Twitch doesn't pay me enough Eh ma più è politico Più è un po' borderline Ah potete joinare ragazzi Per votare se volete Vediamo Eh Cazzo Ma cazzo Ma come? Eh Attenzione Attenzione Che curo Peccato perché questa è bella Questa mi era piaciuta Ma è nessuno Oh ma quanti punti so Round three Bello Cos'è che ha detto raga non ho capito Bene bene Che abbiamo qui Sì 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 Come vanno assicurati? No! No! Ragazzi, tempo scade qua! Ah si eh? Oh me! Oh me! Oh me! No! No! Ah, l'ha messo, ok! Sta fatto! Well, well, who have we here? A child safe representation of a dick in erection Well, well, who have we here? Hello darling, I'm Brissida I love it Well, well, who have we here? It's me Fabio Rovazzi the Costa Condor Dia Captain Trump 2024 Well, well, who have we here? Your father Well, well, who have we here? Matteo Salvini in Da House Well, well, who have we here? Let's go, let's goski, that's how it's done Woohoo! That's your favourite dove Allora, eh, beh. Eee, qua! Ma no! Ma chi ha era della stanza? Madonna! Mmm, buono! Che campione e non un niente! Chi è o che è campione? Era uno del pubic, dell'audience. So many dubs, so little time. Let's get into it! Ah, molto carino, se! Eee, quanto fatto vuoi essere? Eee, quanto fatto vuoi essere? Eee, quanto fatto vuoi essere? Come sai? E' il suo ritorno. Parca troia! E' il suo nuovo quadrico. Eee, ma non riesce a giocare però. E' il suo ritorno. Però posso guardarvi, posso? Ahahaha! E' il suo ritorno! E' guardare. C'è un ritorno! scusate scusate sono qui è vero che sono qui di più prima che sono entrato su discosso posso unire anche voi su discosso per vedere scusami deve diversi devi cliccare su join live Ah, però non so come fare, scusi. Eh, ma è difficile la telefono, Momin. Ah, beh, se lo guardo, posso guardare? Vai, vai, Momin. Ah, non siamo più su Twitch, non siamo più su Twitch. Sì, 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 sì. Ah, sono qui oggi di nuovo. Su disco, siamo... Non siamo più su streaming, non siamo. Eh, no, però è sempre Twitch. Grazie, ok. Momin, allora... Ah, però non sono... Non sono proprio... Esatto. E... Oh, aspetta, scusa, mi ho vinto. E ti dico, Momin, quando c'è... Quando c'è le fasi di votazione, ti chiedo... Te lo dico io, ti chiedo poi di stare in silenzio. Ah, posso dire se ti vuoi l'audio? Vai, vai, sì, sì, certo, 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 vai. Ah, ok, scusami, for... Un'altra round of what the dub is coming at you. Maria... We've already caused the death of three children. No time to waste. Enter your dub now. Ho vinto. Ho vinto ragazzi, scusatemi. Ho vinto. Occhio, 5 secondi 4, 3, 2, 1 Maria, abbiamo già causato la morte di 3 bambini Ma ancora meno di quanto riguarda la macarena nel 90 Maria, abbiamo già causato la morte di 3 bambini Maria, abbiamo già causato la morte di 3 bambini Maria, abbiamo già causato la morte di 3 bambini Maria, abbiamo già causato la morte di 3 bambini Tu devi lasciarmi un po' per il weekend Maria, abbiamo già causato la morte di 3 bambini Porco Dio Maria, arriva dalla cucina E io ce l'ho precisa, cioè è imbattibile Mi chiedo che il campione non ce l'ho, poverino Eh beh, quello Eh, questo è incredibile Eh, questo sì, questo sì Questo è incredibile Come fai in un round? Eh sì, è un round così poco? No, poi mettiamo solo Non c'è dubbio a arrivare Io tento sempre delle cose... No, che campione? No c'è dubbio a piña Non c'è dubbio a freddo No c'è dubbio a pi slash carino Vabbè questa, questa era Questa era sottile eh Molto molto Eh ok campione approvato ma No Vabbè questa era Questa anche era una Una killing proprio Ho pullato l'algoritmo qua Chi è che ha scritto quello con lo yit finale? Ragazzi chi è che ha vinto E facciamo l'ultimo round? Dai ultimo ultimo Facciamo con GTA? Ti chiamo Hank? No 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 Però mi sa Mi sa Vabbè sapete le regole Sì sì Allora è un reso più semplice Sta parte Non male È una chiave Round one Come on Come here Woo Sorry Trevor Show him you're not just a pretty face Enter your dub Vabbè No, non si può cambiare Eh, mi sa di no Minchia, comunque devi avercela al volo, eh Eh, sì, perché non sono tanti, secondi Ok, go, ah, ciao Come on, come here Better than a Zaquil, eh? Testo da Cazzo Sorry, Trevor Come on, come here Don't you dare ban SDRU mocks again Sorry, Trevor SDR a lot You can't fuck the same kids I fuck Anca, anca basta Shut the fuck up, Diego Nazca Sorry, Trevor Come on, come here Fuck you, Diego Nazca Community, call Rolex Sorry, Trevor Everyone's a critic, including you Time to vote Non era mia qua You're almost out of time Ma io non lo so Ah, è Fabio ora Eh, ha cercato di copiare Figuratevi L'originale Non c'è Comunque il primo round non vai colpa lì Eh, no Dai, ma ragazzi Ok Hey, buddy I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect Michael, just hit him, please Time to let your ambition soar Enter your dub Anita Max Min Sono tornato merde La tua maglia non mi piace capo È probabile che vinco, ragazzi Come? Ahah Ahaha Ahaha Wahoo 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 � Ah şey Ah Ahh Manca si muy な No K 5 4 2 3 E He just wanted to sell Pondoros, not talk about my children. Sure, so can she make me a respectful toast, Porchidio? Porchidio. Sorry mate, I am sorry, I feel bad. I ll show her my dick instead. I d say that coming on her face is plenty respectful, Michael. Michael, just hit him please. Hey, buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. I am Diego Nazca Pop Punk Rocker M8. Michael, just hit him please. Vote now or forever hold your peace. VOTE NOW OR FOREVER HOLD YOUR PEACE. Madonna. You're on a roll. Ma come? No, ma sono ultimo. No, ma sono ultimo. Round 3. Ooooooooh. Everything is different now. What is it? Anita Mack's name. Show him you're not just a pretty face. Enter your dub. Quack quack. Quack quack quack. No, no, no. Cosa è successo? Si è chiuso. Nooo. Rientra, rientra. Eh, ma non ce la fa in tempo, cazzo. Eh, per il prossimo. Ooh. Everything is different now. What is it? Adriana Czeccik Dick Sucker 4000. Ooh. Everything is different now. What is it? It s my new VR. I finally can watch some VR porn. Ooh. Everything is different now. What is it? An amazing anal intruder Made by the holy church Everything is different now What is it? It's a dick pic of Everything is different now What is it? It's covid-20 Now I'm selling it to the Chinese people What did you think was the best? Oh You're almost out of time Classy Oh, thank you Eh, it's a good one Eh, it's a good one This is a good one This is a good one Very, very strong 4.000 points Oh, thank you Because I'm going to win Oh, my God Oh, no Round 4 Such a pleasure working with you Unlike your wife You twisted fuck You're a dead man No time to waste Enter your job now Now Oh Oh Quack, enter your dub! Oh, the hair... This is the need for more time! It's too fast! She shed all over the hotel room like Il Volo! Good! Such a pleasure working with you! Unlike your wife! My dear Fadas, I'm Diego! Ahahahahha Ahahahahha Such a pleasure working with you Unlike your wife Did you know that a human anus can contain more than 20 squirrels? Ahahahahha You twisted fuck you're a dead man Such a pleasure working with you Unlike your wife Boom baby bye Ahahahahha You twisted fuck you're a dead man Such a pleasure working with you Unlike your wife Keletroya Ahahahahha You twisted fuck you're a dead man Such a pleasure working with you Unlike your wife Keep my wife out of your fickin mouth Ahahahahha You twisted fuck you're a dead man Round's over Let's vote Just vote already Non esiste in italiano Salvo Va bene anche così secondo me Grazie ragazzi che l'avete capita Grazie 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 Niente il mio video di Diego l'ho smesso di funzionare Ahahahahha Va bene tu L'hai rifatto Yes Funziona più Yes Nooo in ultima Round 5 Merda Do I look like a hooker to you? No a che mio lì Ti sembra una puttana Bella lì cuori viola Giù Giù Grazie Alla Rattata Do I look like a hooker to you? What? Jagu Lo Non esiste Ha ha ha. Ha ha ha. Ma è classa, bella. I'm just dark skinned. Let's go to Paris. Who said this to you? I'm a fucker. Ha ha ha. Do I look like a hooker to you? What? I am a woman. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Do I look like a hooker to you? Am I a fucking microphone hooker? Tu cosa dice questo? Si tratta di un giro! Cosa c'è un vincito? Mi scusso? Mi scusso! Casi c'è un giro! Si tratta di una volta! Eeeh che zaccoglola! è pazzesco bullizzato questo è molto bello potente minchia madocca rimonta minchia questo fa questo è un game changer cosa ha detto raga devi portare candle in un posto sicuro a cosa hai pensato dove lo vuoi portare non lo vabbè just go go look go get kindle and take her to a safe place what you thinking i'll take that bitch home and then put her to sleep with zequel look go get kindle and take her to a safe place what you thinking roma terminize station just go go look go get kindle and take her to a safe place what you thinking we can go to the lego headquarters nobody is there anymore just go just go go look go get kindle and take her to a safe place what you thinking i want to 20 percent of her only fans account just go go look go get kindle and take her to a safe place what you thinking bring her to rocko academy just go go abbiamo perso un'occasione no 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 6.000 mi ha reverse ziquilato facciamo l'ultimo viva da l'ultimo del secondo questa vittoria momi momi smutati momi sui film normali l'ultima facciamo un round in meno è mutato 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 a l'usere di ma è umiliante cosa scusate di voi e ringrazio rds c'è un gruppo di milano che si chiama e la torretta milano mi sono dimenticato torretta milani posso può soltare che sono anche dei miei amici che possono tali scusate posto l'ultima dai in quei round posso salutare vai 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 momi insoluto a di anche voi dicete il frutto a torretta milano un saluto a torretta milano a fare forza che sarebbe anche posso dire che barona posso dire barone e milano torretta milano un posto di sbagliato dire tanta parole torretta milano posso si 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 dicete torretta milano tutti quanti anche te torretta 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 sì sì a fare fatto a fare fatto ultimo ragazzi momi ultimo e prendiamo a dormire che fa il bot andiamo I came to warn you give it your best shot and enter your dub ah mi sono indicato scusate posto e smutto pure metto smutta smutta vai vai dimmi forse mi sono indicato il bot e ovvio che praticamente mi sono indicato dire anche a Samara che lei fa dei portcast su su spotify mi sono indicato una grande intervista anche a me per scherzare dico su Samara scusami ovvio tranquillo momi tranquillo non ti preoccupare ma possiamo farlo venerdì prossimo quando c'è la diretta no forse c'è Pasqua ti avviso io maomi ora ti devi mutare ti dobbiamo mutare tutti ora poi poi possiamo saltarci dopo la fine sì sì certo ovviamente smutto mi sono indicato poi ma perché ma perché poi mi ha leggito I came to warn you horse's dick doesn't go all the way into the ass I just talked about it on RDS I came to warn you just fuck me moaning I came to warn you Makai Kazo Ti Kanosuke I came to warn you mommy is waiting for a selfie no I came to warn you I am a miner not a. no tom's runig out tom's running out eh WHY aw ah grazie fabio ah 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 come si chiama come si chiamava lei non mi ricordo non lo so io non ho neanche ascoltato traduzione è tipo perché si comporta sempre così da superiore io qua potrei spiegare non ho scritto niente we'll see if she can suck my dick superiorly janus the men are superior he's the ceo of sksk ma chi è che hai scritto sta roba basta Fabio no è colpa mia stavolta è stato io va beh qua è molto 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 di bello io non me la sento di votarmi in particolare molto sotto la sufficienza si 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 votate votate better luck next time ankle biter questo top dog is hip to the jive non lo avevo votato non lo avevo votato vota sempre ziquill io perfedevo ah grazie anche per contratto per contratto ma anche io avevo votato quadriomi no diceva che non avevi votato non è vero eh non ho letto ovviamente c'è stato qualcosa c'era di insolito nelle scatole rubate del latte delle scatole rubate ah ok qua 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 shut up dad is much stranger was there anything unusual about the stolen box they contain a rare picture of rubino fucking a man was there anything unusual about the stolen box they were full of the shit of Borgazio was there anything unusual about the stolen box I'm fucking cool he's getting what's up vote now or forever hold your peace you're almost out of time there's one that is enough I need to make a swing total slug no 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 it was beautiful it was actual yeah that's what's up 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 quiet on set another round is coming up attention and what's puberty for you it means enter your dub Anitta Maxine Che c***o è? Che c***o è? E cosa puberty? For you it means Now I'm gonna f*** everybody in this room NVIDIA GeForce RTX 4090 Super Wow Erase all your money on OnlyFans That I will suck your pinus in this lesson Stopping to watch cartoons like a mocha When you start masturbating to photos of Victor Laszlo drinking cerveza Vote for your favorite dog Alla mago de merda ma non c'è fa una shiva orpottia Fa su, fa su Stano te ho fatto un sogno Sì Eh ma lo dovete votare anche voi Nell'ultima si riuscite tutto eh Eh si Ah siamo tutti da eh Ah mantengo la posizione Mantengo la posizione Lennard è forte Best of you Best of you What now? What are you waiting for? Enter your dub Sì Ho perso Anch'io 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 un serato umano morirà solo in fine, mio amico bruh cosa ora? torniamo alla cucina THIME per il contenuto eh ragazzi eh ma questo è imbattibile come fai? eh ma sarà Hank? si è Hank lo fa grazie grazie questa pazzesca 9000 punti brod niente porca ultimo merda eh ma comunque il finale e gli altri praticamente no wow wow ragazzi non è possibile ma poi è una cosa visivamente umiliante questo ma no poi posso dire una cosa? con i film arrivi sempre ultimo ma io anche con la tua moda ci sono sempre ultime tipo la mia dannazione non se ne esce non non